Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle. È martedì mattina, ma gli spoiler sono usciti ieri sera intorno alle 9 e mezza, 10, quindi ho aspettato come sempre la notte per vedere se c'era qualcosa di nuovo, anche perché la scorsa settimana, se vi ricordate, praticamente metà degli spoiler erano falsi, quindi a quanto pare c'era, cioè, erano state dette una quantità di cazzate immonde, quindi preferisco, ho preferito aspettare un attimo stamattina e poi onestamente ieri sera ero fuori casa, quindi tornare a casa e fare uno spoiler mentre sono rincoglionito non ne avevo voglia. Detto questo, prima di cominciare, visto che ho lasciato il tempo per i casual viewers per poter uscire, iscrivetevi a questo canale, ma soprattutto iscrivetevi al canale Bike & Raft Archive, che è il nostro secondo canale dove stiamo ricaricando i video e le live che erano presenti su questo canale non a tema One Piece e soprattutto ricarichiamo le live di Twitch non a tema One Piece. Detto questo, ragazzi, ciancio alle bande e iniziamo subito a parlare del capitolo. Capitolo 1066, La volontà di Ohara. Allora, non è chiaro se ci sono mini-avventure o se c'è una color spread. Diciamo che essendoci stata una color la scorsa settimana, molto probabilmente proseguiremo con quello che sono le mini-avventure e quindi non sappiamo se si proseguirà sulla linea narrativa dei neri, quindi di Aokiji e Fanaugur, oppure se andremo avanti sulla linea narrativa del Germa Double Six, quindi con la fuga del Germa e di Caesar Clown. Ma detto questo, andiamo al capitolo, perché c'è della ciccia di cui parlare. Capitolo 1066, sembra, cioè non è chiaro dove inizi il capitolo e di cosa si inizi a parlare. Sappiamo che in questo capitolo vedremo un flashback di Ohara, quindi già molto importante, ed è un flashback di Ohara dopo che ha subito il Buster Call della Marina, quindi quello che successe subito dopo questo grosso attacco. Tra l'altro, come dice Redon in uno degli aggiornamenti agli spoiler, queste 6-7 righe sono proprio un assaggio di quello che è il capitolo, perché nel capitolo vengono dette tante, tante, tante cose. Vediamo che Dragon e Vegapunk si conoscono ed erano a Ohara subito dopo il Buster Call, e conoscevano Clover, quindi sembra quasi che la loro volontà di affrontare il governo, di contrastare il governo, nasca qui. E nasca dal fatto di aver perso un amico e di avere, visto che il governo attacca chiunque per coprire delle verità storiche. E quindi, praticamente dopo questo attacco a Ohara, Dragon decide di formare un esercito. Quindi sappiamo queste due cose. Sappiamo che loro erano lì e che Dragon decide di formare l'armata rivoluzionaria proprio a seguito dell'attacco di Ohara, della distruzione di Ohara. Poi vediamo un gruppo di giganti, non sappiamo se sono giganti di Elbaf, se sono giganti di altri villaggi, ok? E caricano praticamente tutti i libri rimasti ad Ohara e li portano con sé. Io vi dico, nel Warland, negli spoiler parlano di Elbaf, ma non vi dimenticate che Elbaf era un villaggio del Warland e soprattutto Elbaf, in teoria, dovrebbe essere il villaggio più barbaro, più grezzo del Warland. Quindi, trovo difficile pensare che abbiano portato dei libri di storia, tutti i libri di storia che hanno trovato e a Elbaf, invece che portarli magari in altri villaggi un po' più sviluppati, anche a livello sociale. Lo vedremo. Ad ogni modo, se vi state chiedendo, o se non vi ricordate, i libri che erano dentro all'albero erano stati buttati, tutti sono in tutti, dentro a un laghetto che si trova praticamente dentro l'isola. E, PS, se vi state chiedendo, ah, non si sono salvati con il fuoco perché ha bruciato tutto, li buttano in acqua perché l'acqua scioglie l'inchiostro. Non è del tutto vero. Ci sono degli inchiostri particolari che sono anche utilizzati tranquillamente, che una volta messi in acqua non si sciolgono. Se voi buttate un libro in acqua non fatelo e l'inchiostro dei libri non si scioglie. Quindi, e non credo che fossero libri miniati o libri scritti a mano. Non mi meraviglierei che fossero libri stampati proprio. Quindi, il problema da questo punto di vista non è che si ponga, perché se voi mettete una pagina di un libro sotto l'acqua, non è che praticamente l'inchiostro sparisca, si nomidisce la pagina. Quindi, molto probabilmente, i giganti hanno preso quei libri che erano stati buttati dentro il lago e li hanno portati a Elbaf, o meglio, nel Warland. E scopriamo che questo gruppo era gestito, governato, comandato da un uomo, da una persona, completamente coperta, proprio col corpo completamente coperto da bende. E qua, mi fermo un attimo, prima di andare avanti. Noi, cioè, non è chiaro se la persona coperta da bende fosse un uomo o fosse un gigante. Perché se fosse un uomo, possiamo pensare che questa persona sia l'uomo dalla cicatrice di fuoco. Quello che viene nominato da Kid Hero. Quindi, quello che poi loro stanno andando a cercare. Ma, ma, lo so che potrebbe essere una boiata, ma visto che il capitolo parla di Ohara, quindi, rimaniamo sul tema, e youtuber Ohara, quindi ogni tanto qualche vaccata lasciatemela dire, potrebbe anche darsi che questa persona coperta da bende possa essere Haguar di Sol. Quindi, il gigante amico di Robin, che l'ha salvata, che, una volta dopo aver subito comunque un Ice Age, qualcuno, praticamente, è riuscito a scioglierlo, è riuscito a liberarlo dai ghiacci prima che morisse. Chi lo sa? Sarebbe una vaccata, eh? Però, se è propriamente spiegata, potrebbe non essere così tanto una vaccata. E arriviamo a fine capitolo. A fine capitolo, vediamo Rufy che incontra il vero Vegapunk. E non è una silhouette, è il vero Vegapunk. Quindi, vediamo Stella, il vero corpo di Vegapunk. E Stella, parlando proprio con Rufy, dice Oh, figlio di Dragon, sapevo che saresti venuto. E qua si chiude il capitolo. Ovviamente Redon ci dice anche un'altra cosa. Ci dice che questo è solo un piccolo, piccolissimo pezzo di quelle che sono le informazioni all'interno di questo capitolo. All'interno del capitolo ci saranno tante e tante spiegazioni di quello che è successo, di quello che sono stati i motivi per cui loro sono arrivati qui. Quindi Dragon e Vegapunk sono sull'isola. Se Vegapunk era già sotto la marina o se non lo era. E se Dragon fosse un marine oppure no. Quindi ci sono molte, molte più spiegazioni. Quindi non ci resta che aspettare, aspettare, aspettare. Rimanete qui e aspettate con noi. E preparatevi perché domani sera, quando ci sarà la live spoiler, secondo me ne vedremo delle belle ragazzi. Ne vedremo assolutamente delle belle. Detto questo ragazzi, se vi è piaciuto il video, pollicione verso l'alto. Se non vi è piaciuto, pollicione verso il basso. Ci sta. Voglio sapere voi cosa ne pensate di Taro20 e scrivetemi qua sotto nei commenti qual è la vostra idea. Detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima e ciao belli! Grazie. 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 Grazie.